Buongiorno e grazie a tutti i presenti. Questa iniziativa di oggi è stata organizzata con lo scopo di tracciare sia un bilancio della nostra campagna un centesimo per l'ANAS sia per delineare i prossimi programmi che abbiamo intenzione di varare sempre a difesa di questo territorio e per sollecitare il completamento della trasversale delle serre. Se dovessimo dare un titolo alla iniziativa, alla manifestazione di oggi dovremmo scrivere trasversale delle serre la vergogna continua perché innanzitutto noi abbiamo sempre e comunque i cantieri fermi e ci riferiamo ovviamente non solo allo svincolo famoso di Vazzano ma anche alla questione di Montecucco e a tutte le altre aree da appaltare, in particolare Soverato, Gagliato e Vallelonga, Vazzano. Sono ovviamente dei tronchi molto importanti che rappresentano il nucleo centrale di questa infrastruttura e se non si andranno a realizzare quest'opera resterà comunque un'incompiuta, che se ne dica. A questo dobbiamo aggiungere anche le opere inutili che sono state realizzate in questo periodo con i soldi finalizzati alla trasversale delle serre e mi riferisco in modo particolare alla inutile rotatoria di Satriano che continuiamo a battezzare in questo modo realizzata con i soldi della trasversale delle serre ma che in quella posizione, in quella situazione non è utile a nulla, né al traffico locale, né a quella che sarà poi questa fantomatica futura bretella di innesto poi allo svincolo di Gagliato. Questa iniziativa dicevamo si ricollega alla nostra campagna un centesimo per l'ANAS iniziativa che noi abbiamo lanciato in maniera ovviamente provocatoria alla luce della nostra richiesta di accesso agli atti che risale a nove mesi fa ci rispondono dopo nove mesi per dire che cosa? Che sì, noi possiamo visionare i documenti però dobbiamo pagare 105 euro di diritti di ricerca e di supporto dvd. Questo probabilmente dicevo prima nel corso di un'intervista è l'unico paese al mondo nel quale il diritto alla trasparenza diventa una tassa a carico dei cittadini quindi non solo i contribuenti hanno dovuto pagare in tutti questi 50 anni circa 500 milioni di euro di tasse tolte dalle nostre tasche per realizzare questa incompiuta ma adesso ci chiedono pure altri 105 euro resto mancia per poter visionare quello che è accaduto appunto in tutti questi anni. Quindi noi come reazione abbiamo lanciato questa campagna un centesimo per l'ANAS. Perché innanzitutto? Perché noi vogliamo che sia evidente una cosa tangibile un segno tangibile. Dietro ognuno di questi centesimi che vedete su questo tavolo c'è un cittadino che ha consegnato questa moneta al Comitato delegandoci a rappresentare la sua indignazione la sua protesta nei confronti di una situazione che è diventata ormai insostenibile come dicevo all'inizio vergognosa. Non possiamo accettare che questa vicenda possa diventare veramente lo zimbello dell'intera Calabria per cui noi manifestiamo con questa nostra presa di posizione forte che rappresenta che cosa? 105 euro per 10.500 monetine che rappresentano 10.500 cittadini che hanno versato un centesimo per dire basta con questa situazione. E quindi noi ribadiamo con la forza di questi numeri due richieste essenziali. Bisogna commissariare immediatamente il compartimento ANAS della Calabria che è il responsabile della mala gestione di questo nostro territorio. Lo dico per quanto riguarda la trasversale delle serre ma potrei allargarmi a tantissime altre opere non realizzate o realizzate male sul nostro territorio. E poi la seconda questione è politica. Cioè noi non possiamo accettare che la politica regionale calabrese sia così dormiente rispetto a questioni infrastrutturali seri e gravi come quelle che emergono nel nostro territorio. Un territorio, lo ricordo, che non ha solo il problema della trasversale delle serre. Questo è solo l'emblema di una crisi gravissima che investe tutte le aree interne. C'è uno spopolamento drammatico, intere comunità che ormai stanno scomparendo. Cito una notizia che però non ha una fonte sicura ma mi è stata riferita. Alcune banche avrebbero ricevuto una circolare interna in base alla quale sono tenute a non finanziare più opere di nuova edificazione. Cioè impresse che chiedono di edificare nuovi edifici nel nostro territorio. Perché da qui ai prossimi vent'anni c'è una proiezione demografica che ci porta verso una desertificazione totale. Quindi queste sono questioni strategiche delle quali si deve occupare la politica. Ma non se ne deve occupare solo a ridosso delle elezioni e poi una volta che si arriva lì si difendono le proprie posizioni di privilegio e chi si è visto si è visto. La nostra protesta è appunto quella di un gruppo di cittadini, come vedete anche molto numeroso e nutrito, che chiede una linea di demarcazione netta rispetto a quello che si è fatto in passato. Da notizie che ci sono arrivate oggi pare che la Regione Calabria abbia intenzione di occuparsi della trasversale delle serre, probabilmente dico io anche grazie alla nostra opera di sensibilizzazione e pare addirittura che ci sia all'orizzonte una indagine ispettiva sulla trasversale delle serre e su altre due questioni come la 106 e la Saccala. Non so, queste sono notizie non ufficiali ma ufficiose, delle quali poi magari ci sarà contezza. Io le riferisco del relato, però dico anche questo, se non ci fosse stato il comitato si sarebbe parlato della trasversale delle serre? Non credo. Per cui continuo a ribadire che la nostra voce è fondamentale ed è importante. Ringrazio tutti i presenti e auspico che da qui alla data delle elezioni i futuri candidati e qualche sindaco loro diciamo adepto non escano fuori con i soliti proclami dei quali sinceramente abbiamo le tasche piene. Silvia Vono. Buonasera, allora io voglio partire dal commissariamento dell'ANAS. Perché il commissariamento? Qualcuno potrebbe pensare, potrebbe dire, come è stato detto, da chi vuole usare questa situazione, strumentalizzarla, che noi non vogliamo bene alla Calabria e alla nostra terra. Perché il commissariamento è sempre visto come qualcosa di terribile. Una persona che arriva dall'esterno e considerati anche gli ultimi episodi di probabile incatenamento di Oliverio per il commissariamento della sanità, però io mi fermo un attimo a riflettere e penso se non ci fosse stato il commissario alla sanità calabrese sarebbe stato meglio? Non lo so, penso proprio di no, visto anche tutto quello che trama sotto di ufficioso e di non ufficiale. a questa tanta voglia di avere la sanità tutta per noi. Io sinceramente avrei voluto essere rappresentata da qualche consigliere che ho votato quando ci sono state le ultime elezioni per la presidenza della Regione e non avrei voluto vedere dei tecnici. Evidentemente la Calabria e la Regione stessa ha dei soldi in più da sperperare, dei soldi da fornire ai nostri consiglieri che però non sono assessori e agli assessori tecnici che non lo fanno gratuitamente. Mi pare che dal 2015 ad oggi la situazione della Calabria rimane uguale, quindi né competenza né politica. Andiamo alla situazione delle nostre strade. È una provocazione il centesimo per l'ANAS, ma non è una provocazione il commissariamento, perché è reale la situazione che si sta verificando e che già persiste da parecchi anni in tutta la Calabria. Io oggi ho stampato proprio dal sito dell'ANAS un documento del numero dei lavori in corso in Calabria, 66, nuove costruzioni 6 e manutenzione straordinaria, lavori di manutenzione straordinaria 60, per un importo totale di 961.744.398,58 centesimi. I lavori sono per la strada statale 282 Mari, la 106 Ionica, la strada statale 107 Silana Crotonese, la strada statale 682 Ionio Tirreno, la strada statale 182 Serre Calabria, che è quella per cui noi stiamo portando avanti questa tematica e questa conferenza stampa, la strada statale 19 Quater delle Calabrie, e la 3 Salerno Reggio Calabria, che figura a 3 Salerno Reggio Calabria e a 2. Figura con gli stessi lavori. era conclusa, sì, era conclusa a dire di qualche politico a livello nazionale, avevano persino forse passato la cera quel giorno che è arrivato qualche politico, ma ancora persistono lavori di manutenzione straordinaria su tutti i tratti. Quindi a questo punto mi chiedo, il commissariamento dell'ANAS è necessario e tutti quanti dobbiamo aiutare il Comitato, perché il Comitato non ha forza se non ci sono i cittadini, ma mi pare che i 10.500 centesimi dimostrano che i cittadini una forza ce l'hanno. Non parlo della politica, però si avvicina una campagna elettorale, che deve vedere, Francesco ha parlato di sindaci, di politici, come se fossero altro da noi. Io ho sempre sostenuto che la politica la facciamo noi ogni volta che diamo un centesimo, ogni volta che spendiamo una parola positiva per il nostro territorio, con il nostro impegno. Quindi io dico ai cittadini, uniamoci e portiamo avanti qualche discorso che forse potrebbe ridarci dignità, farà anche rivivere questi territori che stanno morendo, i nostri figli devono andare via e anche noi siamo in difficoltà, perché non riusciamo più nemmeno a dare qualcosa in più ai nostri figli. Siamo noi che adesso spingiamo i nostri figli ad andare via dalla Calabria. Noi non vogliamo fare questo, noi vogliamo rimanere in Calabria e vogliamo farlo con la nostra dignità di persone, di cittadini, indipendentemente dalla politica che non è altro da noi, ma siamo noi. Quindi credo che questa conferenza stampa sia l'inizio di un percorso che deve durare un bel po' di tempo e che ci deve vedere uniti a portare avanti qualcosa di serio e di positivo per tutta la nostra regione. Buonasera a tutti. Guardate, io sto vivendo una situazione veramente drammatica, perché oltre ad essere consapevole di tutto quello che stiamo facendo nel Comitato, le nostre battaglie da due anni che facciamo queste iniziative, non vedo da parte della politica soprattutto, non vedo nessuna reazione. Cioè è davvero drammatico assistere ogni giorno sulla strada che io percorro per andare a lavorare e chiedi quelle parti, Alfredo, il dottore Codelupi, lo possono testimoniare. Ogni giorno c'è un incidente. 15 giorni fa è morto un ragazzo di 27 anni, nella strada che va da Serra, Soriano, Piscopio, Vibo, Valencia, che è la strada che io percorro ogni mattina per andare a lavorare. Vanzieri, tre feriti a 300 metri di distanza. Dopo Soriano sono strade abbandonate. Noi le percorriamo avendo ormai nella testa la buca che c'è a una certa distanza, a calcolare il ciglio della strada invaso dall'erbacce. Cioè viviamo una situazione veramente drammatica. E io, come vi dicevo, non trovo riscontro da parte di nessuno, né delle istituzioni, né della politica, perché anche loro, guarda caso, transitano su quelle strade, proprio un'indifferenza totale. Cioè non c'è nessuno che prende provvedimenti, che dice un qualcosa, che possa insomma correggere questo stato di cose, sanare in qualche modo questi drammi. Un ragazzo di 27 anni, non si scherza. E la fidanzata ricoverata d'urgenza, chiaramente prima a Calanzaro, poi a Cosenza, perché in situazioni veramente penose. Ora io dico, è ora di finirla. Cioè secondo me la politica dovrebbe, i nostri candidati, i sindaci e quant'altro, dovrebbero cambiare strategia. Cioè non è più quella, la strategia di andare là, aspettare ogni sei, cinque anni, sei anni, ogni tre anni andare a tagliare il nastro e a fare le cose all'ANAS. Devono cambiare strategia, devono diventare cittadini come noi ed insistere sul fatto che anche loro devono raccogliere il centesimo per dire io sono un cittadino come gli altri e voglio che questa zona abbia un po' di dignità. E guardate, non se ne può più. Per ogni cosa dobbiamo fare proteste. Io legherei questa questione della trasversale, la legherei pure con il comitato pro-Cadanzaro, perché è intimamente connesso il fatto che 4.000 persone hanno firmato una petizione per andare con la provincia di Cadanzaro. Tutta la zona del Serrese è stufa di stare in queste condizioni di abbandono. E quindi io dico, cari cittadini, dobbiamo cercare di far cambiare strategia alla politica. La politica deve incazzarsi contro l'ANAS. Non deve andare là a pietire e aspettare che deve tagliare il nastro e farsi bello che ha portato i soldi o non ha portato i soldi. I soldi sono dei cittadini. I soldi sono nostri. E quindi voglio dire, noi dobbiamo cercare di, anche come comitato, di sollevare questa questione, di essere più incisivi. Di essere più incisivi. Perché molte volte io penso che anche noi forse non abbiamo un'azione più martellante, più pressante sull'ANAS, sui cittadini, sui politici. Dobbiamo essere più consapevoli che questa è una zona abbandonata. I dati che riportava Francesco e che sono veritieri, le banche non concedono più mutui, l'abbandono, il depauperamento delle nostre zone. Lo vediamo ogni giorno. Decine di giovani partono perché non ci sono più speranze. Perché non c'è più non c'è più dignità a stare nei nostri comuni. Cosa fa un giovane nei nostri comuni? Non può fare niente. Allora, la strada è una di quelle cose che rappresenta la possibilità di sviluppo. La possibilità di sviluppo. Ci sono tante iniziative. Abbiamo la gastronomia, abbiamo le bellezze, abbiamo l'arte, la storia. E insomma, cerchiamo di sfruttarle. Ma se non abbiamo una strada non andiamo da nessuna parte. Prego. Allora, io sono Marisa Gigliotti e faccio parte anch'io del Comitato. Volevo mettervi e mettere all'attenzione un altro tema che è quello delle promesse. Questo territorio è vissuto per tanti anni sulle promesse. Le promesse che questa strada se fosse stata realizzata ma doveva essere realizzata in termini brevi avrebbe portato chissà quale sviluppo. Queste promesse sono servite a raccogliere voti per i vari candidati che poi sono stati eletti alla Camera e al Senato perché ovviamente promettevano sempre questo. Non solo, ma si è arrivato al punto in cui uno svincolo inutile è costato 19 milioni. 19 milioni uno svincolo che poteva anche non esserci però serviva perché era un pacchetto di voti per quel territorio. Non solo, ma spesso che io credo che spesso i sindaci anche in buona fede si sono sentiti quasi in dovere di stare zitti perché probabilmente qualcuno dell'ANAS che fosse l'ingegnere dell'ANAS o quello dell'impresa o comunque qualcuno ha detto va bene non ti preoccupare tanto qui aggiustiamo questa cosa magari nelle vicinanze di uno svincolo facciamo 100 metri di asfalto e questa cosa è servita per dire va bene ma contentavo e quindi questa cosa non si è visto il problema nella sua dimensione più alta e oggi paghiamo paghiamo proprio lo scotto di questi prosciutti che ci sono stati davanti agli occhi i cittadini si stanno ribellando il comitato interpreta i cittadini perché anche noi siamo cittadini di questo territorio e vuole far capire che le cose così non possono più andare qualcuno mi chiede ma serve ancora questa strada se hanno impiegato 25 50 anni per fare 20 23 chilometri ce ne vorranno altri 50 per fare per fare gli altri 20 bene io penso che con un sistema statale con un'ANAS che funziona con la certezza dei finanziamenti e c'è stato detto mesi fa che i soldi ci sono queste cose se fatte bene si possono risolvere nel giro di 4-5 anni si può appaltare un'opera e seguirla bene fare in modo che venga completata ma io vado indietro di 500 anni e vi dico che un papa a Roma ha realizzato un acquedotto via via del corso ha messo gli obelischi ovunque in 4 anni di papato cioè queste cose se fatte bene se fatte veramente con cognizione di causa si possono realizzare in tempi brevi perché noi dobbiamo allungare questi tempi infatti tra le cose che noi abbiamo chiesto all'ANAS è non soltanto la certezza di quello che verrà perché chiaramente se non si fanno i due tratti principali che sono quelli che collegano alla 106 e che collegano all'autostrada non ha senso aver fatto questa parte centrale ma noi chiediamo che ci sia contezza vogliamo sapere dove sono andati a finire tutti questi soldi spesi perché sono stati spesi 500 milioni e 500 milioni per 20 chilometri vuol dire che questi tratti sono costati 20-25 milioni a chilometro e allora è una cosa non più sopportabile sono soldi nostri soldi dei cittadini che sono finiti in mano a qualcuno sono finiti ma non nella strada perché la strada non è completa perché la strada non è sicura perché la stessa strada nuova non ha un sistema di regimazione delle acque bianche che ci fa stare in sicurezza quindi sono stati sperperati da qualche parte sono andati la strada non è finita quindi noi chiediamo contezza di quello che è stato fatto e vogliamo non essere imbrogliati su quello che si farà e un'ultima cosa è inutile che ci dicono che inaugureranno nuovi tratti da qui a qualche mese perché sono un chilometro e mezzo a Montecucco e altri 7-800 metri metti un chilometro nella zona all'attacco dell'autostrada sono queste che finalmente hanno sbloccato le opere per fare due chilometri di strada noi vogliamo la strada nella sua completezza vogliamo avere sicurezza e contezza di quello che è stato fatto finora quindi con le relazioni finali con i verbali di collaudo con tutta la documentazione e speriamo che nella tassa dei 105 euro ci sia quello che noi abbiamo chiesto perché la lettera che ci ha mandato l'ANAS tutto ci fa capire tranne che risponde all'elenco di cose che noi abbiamo chiesto ci ha detto altro ci ha detto cose così strane quindi noi non siamo sicuri non siamo tranquilli però faremo valere la nostra voce Sì poi ci saranno anche degli interventi un'ulteriore nota di Silvia volevo solo ricordare una cosa noi siamo sempre legati anche a dei luoghi molto simbolici noi oggi ci troviamo qui nella sede di Teleionio per questa conferenza stampa ringraziamo l'emittente per l'ospitalità ma Teleionio è importante perché da qui più di 20 anni fa è partita la famosa carovana dallo Ionio al Tirreno che serviva per sbloccare la trasversale delle serre ed era capitanata da personaggi che ormai non ci sono più il professore Giampiero Nisticò Saro Gambino persone che hanno fatto la storia di questo territorio e ancora dopo 20 anni siamo qui in questa sede di Teleionio a dire che questa strada deve essere completata un'altra notazione sui soldi noi adesso stiamo parlando di nuovi lotti da appaltare da realizzare Satriano Gagliato Vazzano Vallelonga eccetera soldi che arriveranno quando cioè la paltabilità a oltre il 2025 questo è il cronoprogramma dell'ANAS quindi è inutile che da qui a marzo aprile quando si voterà andremo ad ascoltare il campanello del politico di turno che dice adesso arriverà la trasversale delle serre non è così la trasversale delle serre si farà se ci sarà un'azione forte e dico io anche possibilmente congiunta cittadini e regione calabria nei confronti del governo che poi è l'erogatore dei finanziamenti per dire quel cronoprogramma deve essere accorciato quei soldi devono arrivare prima la trasversale delle serre si deve finire prima altrimenti tutto il resto saranno solo e semplicemente frottole frottole perché la paltabilità al 2025 significa che questa strada si realizzerà tra cent'anni se mai la realizzeranno io volevo solo dire Fioravante ha parlato di incisività del comitato nei confronti della politica volevo ricordare che il documento di richiesta degli atti è stato sottoscritto oltre che da Francesco io e Marisa Gigliotti mi pare che c'eravamo solo noi tre presenti che non siamo politici da 20 persone quindi 20 meno 3 17 persone erano politici a livello locale regionale e provinciale tenendo conto del fatto che i politici che siano consiglieri parlamentari possono andare direttamente a ritirare tutta la documentazione senza pagare nemmeno un centesimo io non ho visto questa corsa dei politici all'ANAS per ritirare i documenti quindi è un'altra no è un altro modo di far vedere che la trasparenza non solo non la vuole l'ANAS ma non la vuole nemmeno la politica e quindi secondo me l'accordo ANAS politica è molto chiaro almeno politica calabrese poi se c'erano anche dei calabresi che ci rappresentano a livello nazionale ma non si sono mossi vuol dire che anche a livello nazionale è inutile che speriamo di avere di avere trasparenza e poi volevo ricordare per quanto riguarda le serre calabre ultimamente il comune di Satriano ha pubblicato una mappa del collegamento Satriano Soverato e Satriano Gaiato praticamente è un progetto definitivo del 2012 noi da quando ci siamo costituiti abbiamo detto che esistevano questi progetti eravamo anche andati a ritirarli la politica locale aveva fatto finta di niente in un ultimo incontro del comitato qualcuno rappresentante della politica locale del comune ha detto che non esisteva nessun documento adesso ricordo che il comune di Satriano è rappresentato da un commissario prefettizio per ritornare al discorso del commissariamento i progetti definitivi sono usciti fuori progetti definitivi datati dicembre 2012 ricordo che siamo a dicembre 2017 basta questo per riflettere ancora sulla necessità del commissariamento Alfredo Barillari volevo dire però direi mettere qua vicino metto qua vicino no io volevo semplicemente ringraziare a parte i presenti ma voi per gli interventi ma lo dico in maniera sincera e obiettiva perché se anche la politica riuscisse a parlare in modo obiettivo stando ai fatti come voi avete fatto in modo eclettico tra l'altro incastrandovi benissimo senza andare a sviscerare le stesse cose ma dicendo ognuno dei concetti veramente importanti dicevo se la politica riuscisse ad avere questa lucidità nel guardare ciò che circonda la nostra realtà magari qualche risposta riuscirebbe a darla perché a volte mi sembra che ormai ci sia un distacco totale è un po' quello che diceva anche Fioravante mi ricollego là sull'incisività che manca da parte della nostra classe dirigente amministrativa politica ci sia ormai un distacco fra ciò che accade nella cittadinanza e nella società e un vecchio linguaggio non ci si rende conto che ormai e non a caso siamo in una sede televisiva che è un luogo di informazione che appunto le informazioni ormai viaggiano in un secondo da un capo all'altro al mondo quindi i cittadini di conseguenza sono informati su quello che accade e quello che secondo me accadrà lo dico da cittadino perché io non mi schiererò con nessuno per questa campagna elettorale ripeto non rientro in quel gioco mediatico solito che vediamo ogni tot di anni da cittadino dico che se ci fosse contezza di questo e di queste informazioni magari si riuscirebbe ad evitare quella presa in giro che ogni volta vediamo come l'ultima che abbiamo letto sui giornali quando qualcuno parlava di aprire il nuovo tratto che a quanto pare se sono due chilometri sono altri 50 milioni di euro stando con le medie per aprile fatto sta che si sono fatti mali i calcoli perché magari a qualcuno sembrava che si votasse a maggio metà aprile invece si vota inizio marzo quindi perlomeno ci evitiamo l'ennesima passarella e quindi credo che sia là il gioco propositivo e virtuoso gioco civico secondo me che il comitato per la trasversale sta portando avanti e cioè risvegliare le coscienze di chi ancora vive questi territori e collegarle con chi è fuori e ha una speranza mai morta di vedere quei luoghi che ha abbandonato finalmente incanalarsi verso uno sviluppo e un progresso che ci meritiamo in quanto cittadini perché ormai i tempi delle vacche grasse sono finiti chi magari la coscienza la metteva a tacere a dormire perché aveva un incarico oppure entrava a lavorare da qualche parte questa possibilità non ce l'ha più tant'è che deve o emigrare oppure rimanere qua e ascoltare le tante promesse che poi vengono puntualmente disattese quindi anche loro poi questa coscienza la svegliano l'attivano e serve serve veramente tantissimo e vi ringrazio nuovamente da cittadino questo tipo di intervento civico che il comitato per la trasversale incarna ormai da due anni perché aiuta a coagulare quello che di positivo è rimasto nei nostri territori non si scade non si scade mai nella retorica cosa che invece in qualsiasi comunicato stampa politico è ormai un dato di fatto fumo 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 ma niente arrosto si guarda la realtà la si analizza si prova a mettere i propri rappresentanti davanti alle responsabilità che si sono presi e soprattutto si sta spingendo loro ad andare oltre a quello che finora abbiamo visto del mantenimento dell'incarico istituzionale ma a prendersi delle responsabilità appunto che non possono più essere rimandate ad oltre quindi credo che sia un bilancio positivo dal punto di vista civico credo anche che in quel poco che è stato fatto materialmente sulla costruzione di questa trasversale il merito di questo comitato sia alto perché mantenere l'attenzione puntare i fari riflettori coinvolgere le persone in una discussione del genere è veramente fondamentale e il comitato l'ha fatto in maniera egregia scusate se mi sono allungato ma sono dei concetti che veramente esprimo con passione e condivido con degli amici qua ormai di battaglia e quindi lunga vita al comitato e andiamo avanti così perché credo che a prescindere poi da quelle che sono risposte politiche perché poi non è che possiamo arrivare ovunque né tantomeno sostituirci a delle posizioni che non ricopriamo ciò che sta facendo il comitato appunto sia utilissimo per risvegliare le coscienze civiche grazie Giovanni Mirarchi adesso prenderà la parola anche a nome dei tanti che sul territorio hanno raccolto questi centesimi io cito ad esempio anche Romano Candiloro che ha fatto questa attività sul territorio insomma non mi viene in mente più nessuno però vorrei ricordare tutti coloro i quali hanno collaborato appunto in questi giorni per la raccolta un centesimo per l'ANAS vi dico anche che a breve ci sarà un brindisi augurale speriamo in onore di questa trasversale delle serre e poi un'ultima notazione nei confronti dell'ANAS che come sempre ci starà seguendo occupiamoci anche della manutenzione perché abbiamo uno svincolo senza illuminazione una galleria dove le luci sono accese di giorno e sono spente di notte e poi abbiamo questa pericolosissima rotatoria che diciamo ci illumina la scena proprio qui ci fa da sfondo di fronte per dirla diciamo in soldoni proprio di fronte a Teleionio Giovanni Mirarchi grazie al comitato qui riunito noi partecipiamo sia come cittadini perché il senso civico diceva giustamente prima chi è intervenuto ci mette in condizione di far capire a tutti i cittadini quanto è importante la politica con la P maiuscola e quindi naturalmente avendo avuto un passato di ex amministratore è chiaro che sento ancora di più l'esigenza di far capire quello che il comitato sta in questi due anni di battaglia portando all'attenzione certo noi purtroppo siamo circondati da una classe politica che va da livello nazionale a scendere a livello regionale per dire poi a livello locale che ognuno per le proprie competenze poteva fare molto di più perché se noi dopo 50 anni ce ne troviamo in queste condizioni la responsabilità è di ognuno di noi che ha svolto dei ruoli anche naturalmente io parlo per quelle che erano le mie competenze noi abbiamo sempre cercato soprattutto per quanto riguarda il discorso dei territori di far capire quali erano le problematiche qualcuno prima metteva in evidenza i passaggi cos'è un'infrastruttura primaria la strada la strada quando si parla di sviluppo e se questi territori diceva giustamente prima Marisa parlava Silvia e diceva Francesco abbiamo sempre messo in evidenza una cosa particolare se noi vogliamo far crescere questo territorio che la provincia di Catanzaro una parte della provincia di Vibbo è in queste condizioni è perché noi purtroppo molte infrastrutture primarie non solo le abbiamo ricevute dopo anni e anni rispetto al nord e al centro ma quel poco che è stato costruito è stato pure costruito male perché quando si diceva se tu mi fai due tratti laterali e non mi fai un'intera arteria di che cosa stiamo parlando e poi è chiaro ne parlavamo prima con Nino Bruno che è stato un amministratore come sono stato io i territori soprattutto montani e non solo quelli montani poi alla fine arriviamo alla soluzione che si va a un depaporamento già abbiamo un problema a livello nazionale perché purtroppo si fanno meno figli per altre situazioni che riguardano l'uguale sociale ma tutta questa serie di situazioni se non c'è uno scatto d'orgoglio voluto da questo senso civico e per questo vi faccio un plauso al comitato perché è riuscito a far capire ai cittadini con la raccolta di un centesimo 10.500 persone che nel territorio mettono un centesimo per dire che cosa state facendo perché quando diceva Francesco pure per avere il diritto alla trasparenza di avere delle carte ci chiedono soldi allora sì il commissariamento ma non solo il commissariamento dell'ANAS perché quando non c'è la politica che è capace a svolgere certi ruoli è giusto che ci sia il commissariamento con i cittadini pronti a vederle queste situazioni e quindi andiamo avanti su queste battaglie e dirò di più non ho problema a dirlo se c'è da scendere e lo dico davanti alla telecamera i sindaci del territorio mettetevi le fasce tutti i sindaci del Chiaravallese e del Soveratese tutti uniti su questa battaglia andare in prefettura e dire noi vi consegniamo le fasce perché non è possibile più c'è una dignità siamo nel 2020 non è possibile andare non possiamo elemosinare una strada queste sono cose di una gravità incredibile quindi andiamo avanti perché i cittadini sono con noi andiamo avanti su questa strada perché è importante uno vorrebbe sparare sulla croce rossa per dire poi il problema lo diceva prima Silvia anche colleghiamoci anche al discorso non solo come strada trasversale perché l'ANAS è un problema generale perché se parliamo della 106 e facciamo bene a fare un collegamento con le altre associazioni delle vittime della strada della 106 perché è un problema grosso abbiamo costruito parlano tanto che si costruiscono lotti nuovi l'abbiamo fatto i lotti nuovi del collegamento guardate quello che sta succedendo a Germaneto cioè non solo sono stati fatti e non abbiamo addirittura saggi o sondaggi per sapere se le gallerie tengono dal punto di vista sismico ma anche i lavori appena rifatti dopo un mese vengono richiusi ma di che cosa stiamo parlando di che cosa stiamo parlando ci stanno prendendo perennemente in giro non si può più andare avanti ci vuole uno scatto d'orgoglio dei calabresi e approfitto per fare naturalmente poi gli auguri a tutti i cittadini di questo territorio bene adesso ci sarà questo brindisi bene augurale e volevo ringraziare in conclusione anche Albert Leach che è un nostro grande sostenitore e tra l'altro è una persona molto attiva sul territorio avendo subito sulla sua pelle anche le problematiche che abbiamo evidenziato dell'occupazione della stabilità occupazionale in particolare per quanto riguarda i lavoratori i cosiddetti di mobilità in deroga un'altra battaglia che definire vergognosa è poco persone che hanno lavorato per mesi e mesi e che non vengono pagate ricordiamo ovviamente giustamente ci segnala Alfredo è la stessa cosa che hanno subito gli operai della trasversale che per anni e anni non sono stati non sono stati pagati mi riallaccio per concludere alla questione della 106 nei giorni scorsi abbiamo incontrato alcuni referenti del territorio del comitato per la statale 106 che ci chiedono di unificare questa battaglia perché ovviamente ci troviamo tutti sulla stessa bar che il basso Ionio Soveratese naviga in condizioni disperate per quanto riguarda la viabilità sarebbe un innesto importante è una battaglia che penso si possa condividere e io ringrazio veramente tutti le nostre prossime iniziative quelle saranno accelerare appunto dicevamo questo cronoprogramma con tutte le azioni simboliche civili democratiche ovviamente noi siamo un comitato pacifico ci esprimeremo in questi termini però ovviamente la nostra voce la faremo sentire sempre non ci tireremo indietro e speriamo che ripeto l'auspicio che ha formulato poco fa Fioravante di una maggiore attenzione e sensibilità da parte di chi detiene tra virgolette le leve del potere non lo so se arriverà mai noi facciamo la nostra parte noi facciamo la nostra parte ma credo che arriverà un punto di non ritorno il cosiddetto punto di rottura in ingegneria il punto di rottura forse sta arrivando perché insomma se questo territorio si sta desertificando evidentemente qualcosa che non va c'è e ringrazio veramente tutti adesso un brindisi grazie applausi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.